buonasera a tutti siamo in fiera a padova siamo alla campionaria 2023 abbiamo con noi il nostro super venditore marco gandin e dennis sorze al quale abbiamo installato un impianto in superbonus 110 si è venuto a trovarci oggi in fiera per brindare al suo grande impianto e ne approfittiamo per parlare brevemente di quello che è stato l'intervento che abbiamo fatto a casa sua quindi abbiamo installato un super impianto fotovoltaico di 20 pannelli hyundai inverter huawei da 6 kilowatt da 6 kilowatt e doppia batteria d'accumulo per 30 kilowatt ora di capacità con batteria huawei litio ferrofostato bene completato con la caldaia iperi della imergas con pompa di calore e wallbox della presa dennis mi ha colpito una cosa che tu prima hai detto o tosi cosa è una bestia sto impianto viene abbassato il consumo loro dichiarano penso il 70 per cento ma in alcuni mesi dell'anno vai proprio a zero a zero cioè noi l'abbiamo visto la nostra pelle già da giugno che abbiamo l'impianto nel giugno del 2022 e niente cioè io mi sono trovato benissimo sono venuto a trovarli apposta per dirgli e per esporgli la mia soddisfazione nel tutto quello che mi è stato fatto nell'assistenza nel montaggio nella serietà di tutta questa azienda che alla mia famiglia ha dato solamente che le soddisfazioni ecco bene quindi buona esperienza consiglieresti più energia sicuramente sicuro sempre sempre massima serietà da parte di tutti quindi qualsiasi problemino che problemi seri mai avuti ma qualsiasi dubbio qualsiasi problemino qualsiasi carta qualsiasi cosa che poteva servirmi colpo di telefono e marco o arrivava oppure in qualche maniera sistemava tutto in un giro di un giorno bene super super marco e super bioenergia ecco grazie mille grazie un'ultima cosa visto che sei super contento potremmo migliorare in qualcosa è un consiglio da darci guarda adesso come adesso sinceramente non ho motivo di lamentarmi in qualsiasi cosa comunque di darvi un modo di migliorare perché per me adesso questo è il massimo questo ci fa molto piacere so solo che se un giorno dovessi cambiare abitazione o cosa la farei subito bene denis ti ringrazio bravo marco per l'intervento fatto un brindisi al vostro impianto grazie a tutti Grazie a tutti.